Dopo pranzo Let's go Niente male Roberto Chiari Ale 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 Allora incredibilmente c'è il sole Hello Hi Ryan X Tipo la mia mamma ieri sera Mamma che ha il pupillo di babbo X Sì due Ryan X Ecco questo è il ponte Dai Roberto Fai due foto o no? Se no Tu sei utile Oh questo è che ponte Che fiume è questo? L'Arno L'Arno E' L'Arno Ma siamo in India Let's go Vabbè Tu ci stai spostando tanto Si è speso Si è speso 300 euro 330 euro Hi Vabbè Questo è che Ma quindi come siamo i tamici questo con fiume? Lise Lise Lise